Buongiorno a tutti, sono Francesca Poschi, mi sono diplomata al Fermi nel 2016 nell'indirizzo Sistemi Informativi Aziendali. Attualmente sto completando il mio percorso di studi alla Facoltà di Economia Pisa e allo stesso tempo lavoro nell'azienda di famiglia che si occupa di impianti elettrici e nello specifico sono responsabile della comunicazione e in più durante il periodo estivo mi occupo anche di tutto il settore di illuminazione creventi. Negli anni il mio percorso universitario e il mio percorso lavorativo si sono sempre affiancati e accompagnati perché se da una parte mi piaceva approfondire e studiare bene le discipline economico-aziendali dall'altra mi piaceva poi riscontrare tutto quello che studiavo e che imparavo anche nel mondo lavorativo. Avendo quindi la possibilità e la fortuna di avere un'azienda di famiglia mi sono inserita nel ramo che più mi era affine sia da un punto di vista personale sia sicuramente per un dato anagrafico perché ero la più giovane e la più vicina al mondo dei social e al mondo della comunicazione come aziendale di come viene intesa oggi. Questo è stato sicuramente influenzato dalle varie esperienze che ho fatto a scuola, nello specifico nel mio caso direi Impresa Nazione perché è un progetto di imprenditorialità che mi ha molto avvicinato al mondo del lavoro in un momento in cui non avrei avuto sicuramente altro modo di avvicinarmi. Sicuramente è stato importante per imparare a interfacciarmi con professionisti, con aziende con tutte le difficoltà che ne vengono anche a un'età così giovane. Sicuramente è stata un'esperienza fondamentale per capire cosa poteva piacermi e cosa no e anche i settori e gli ambiti anche strettamente aziendali in cui potevo trovarmi meglio e trovarmi peggio. Tutte esperienze che altrimenti avrei fatto magari alla fine del diploma o addirittura alla fine dell'università. In più a questo sicuramente altra esperienza fondamentale sono state le certificazioni informatiche, nel mio caso perché appunto avevo scelto sistemi informativi che mi hanno aiutato a imparare ad utilizzare il computer utilizzandolo appunto come uno strumento piuttosto che come un ostacolo. Quello che mi sento di consigliare anche agli studenti, agli attuali studenti del Fermi in ottica post-diploma è quella di trarre il massimo da tutte queste esperienze che la scuola mette a disposizione perché vi permettono proprio di prendere un assaggio di tante cose diverse e di capire e anche di sbagliare. E forse è meglio proprio sbagliare durante gli anni della scuola che dopo. Consiglio questa scuola perché gli strumenti e le opportunità che da trovo che siano per me sono state fondamentali nella mia formazione e nella mia vita proprio successiva al diploma. Niente, questa è stata un po' la mia esperienza, spero di esservi stata utile e vi ringrazio per l'attenzione. Niente, questa è stata un po' la mia esperienza. Grazie.